Alla grande Fiera Forum sul mondo della scuola e dell'istruzione didacta alla fortezza da basso, gli studenti sono stati protagonisti anche con la moda. Nello spazio all'aperto, davanti ai padiglioni espositivi della fiera, si sono svolte infatti alcune sfilate che hanno messo in mostra gli abiti disegnati e realizzati dai ragazzi degli istituti toscani che formano i futuri operatori della moda. Un settore strategico nell'economia per la Toscana, la sfida su cui punta la regione con le proprie politiche formative è quella di creare tutta la filiera. Partendo dalle qualifiche più basse per l'operatore della pelletteria piuttosto che l'operatore, il modellista per la moda, fino ad arrivare poi alla formazione post diploma, quindi all'ITS e anche alla contaminazione con le università. L'obiettivo anche in un campo come quello della moda è creare una filiera formativa solida perché è stato ribadito anche nel corso di didacta quando le imprese decidono di insediarsi in Toscana chiedono sia le infrastrutture fisiche sia quelle formative, in altre parole giovani competenti sul territorio.